Sì, qua Duccio ed oggi siamo su God Simulator, yeah! Siamo su God City Bay! Tu che hai da guardare? Gacchia di merda! Muori! Allora ragazzi, questo video sinceramente non sarà tanto lungo, dovrà soltanto 5 minuti. Questo perché, lo sapete perché, è la registrazione proprio che mi impedisce di farlo. Questa registrazione di God Simulator non è che mi dia tanto tempo a disposizione perché prima, quando stavo rilegistrando, mi veniva una registrazione da 10 minuti e invece questa qui mi la riduce a 5 minuti e... vabbè, scusate, perdonatevi per questo. Detto questo, sentite quanto è bella la canzone! La la la, la 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 muori! In questo episodio volevo fare delle montagne russe, yeah! E no! Vabbè, aspettiamo che arrivino. E sono... Eh sì. Dai, vai! Arriva! Ho il potere mistico! Yeah! Dai! Oddio! Yeah! Ho fatto lì! Ok, grazie. Adesso... Adesso... Andiamo! Adesso... Mi piace andare... No! Ascesa! Ok... Vabbè, l'aspetterò qui... La 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 la... Sì, però sui sbrighi mi deve durare 5 minuti il video! Brava, 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 brava! Complimenti, faccio... Ci complimenti, veramente! Complimenti! Adesso... Adesso si parte! Pronti ragazzi! Yeah! La 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 la... La 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 la... La 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 la... Oh! 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 Yeah! Sono proprio... Abile! Ragazzi, questo video sarà... Leggermente, no... Leggermente... Stupido! Sì! Sarà leggermente stupido! Perché... Se non lo conoscete... God Simulator... Diciamo che non è il massimo dei giochi intelligenti! La butto lì per lì! Perché... Guardate... Si è mai visto una capra con una lingua lunghissima che riesce a... A... Ad aggrapparsi alle cose con... Con la propria lingua? No! 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 Perché... Ovviamente per i creatori di questo gioco... È così la fisica! Yeeeey! E adesso moriamo! Oh oh! Vabbè... C'è ancora un po' di tempo... Ho fatto le montagne russe... Quindi adesso che cosa si fa? Sì! Sì! Siamo le macchine! Woohoo! No, poverino... L'ho lasciata dalla ragazza... Non l'ho più rinunata... Ehheh... Guardate... Guardate come è venuto bene... Un vero venuto cuore! Yuppi! Boom! Oh! Che bello! Ci sono innamorati! Ehheh... Ma voi non mi potete innamorare! Perché io... Già ma... Ma sono fatti di pietra! Ah no! No! Il tuo ragazzo è morto! Poverine! E adesso devo prendere... No! Che cacata! Ok! Ultimo! E poi concludo! Dai! Beccalo! Sì! Sì! Dai 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 dai! Sì! Sì! Eeeh... Ragazzi! Non c'è più contento! Yeay! Fammi andare sul mio tuffato! Yeay! Va bene ragazzi! Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace! Comentate! Iscrivetevi al canale! E noi ci becchiamo alla prossima! Ciao!